Questo è Paolo e questo è Luca. Tutti e due difendono i colori della maglia azzurra e si sporcano così tanto che la mamma di Paolo deve lavare a mano la sua maglia in acqua calda. La mamma di Luca, invece, con Ariel bucato a mano e in acqua fredda. E così, partita dopo partita, gol dopo gol, i piccoli azzurri festeggiano la vittoria. Ma mentre Paolo è ormai un azzurro scolorito, Luca, con Ariel, ha difeso bene i colori della sua squadra. Ariel, polvere e liquido, fredda lo sporco, accarezza i colori.